Assumi fin da subito una posizione comoda, mantenendo la colonna vertebrale dritta. Stabilisci un contatto tra te e il tuo corpo, in modo tale che attraverso questo percorso inizierai a sentirti pervaso, completamente da uno stato di rilassamento molto profondo. E anche se in questo momento i tuoi pensieri sono pervasi dalla quotidianità, i tuoi pensieri sono alimentati dalla tua comunicazione. E' un buon momento per iniziare ad ascoltare il tuo respiro, aria che entra e aria che esce. E lascia che sia pervaso dal rilassamento, dalla calma, dalla quiete e nello stesso tempo dalla vigilanza. Ascolta il tuo respiro e mentre prendi aria immagina di respirare una luce bianca. E questa luce inizia a riempire completamente i tuoi polmoni. E mentre butti fuori l'aria, lascia andare via qualsiasi pensiero. E nello stesso tempo, quando inizi a ispirare, porta dentro di te energia positiva. Continua a farlo. E poi lentamente immagina che questa luce possa diffondersi completamente nel tuo corpo. Nelle tue gambe, nei tuoi piedi, nello stomaco, nel petto, nelle braccia, nelle mani, nel volto. Nei tuoi occhi. E questa luce ti aiuta a rigenerare completamente il tuo corpo. Ti aiuta a rigenerare le tue cellule. E lascia che si diffonda completamente in tutte le tue cellule, in ogni atomo del tuo corpo. E quando ti sentirai completamente acceso da questa luce bianca, brillante, rilassati e lascia andare tutti i tuoi pensieri. Permetti a questa luce bianca di portarti in un luogo tranquillo, dove ti puoi rilassare sempre di più. Questo è il tuo tempo. Dedica questo tempo a rigenerare ogni tua cellula. Parla alle tue cellule. Ti voglio bene. Mi accetto così come sono. Sono perfetto. Sono perfetta così. Tutte le mie idee iniziano a prendere forma. Seguirò il mio cammino attraverso questa luce. E la luce si espande anche nel tuo ambiente. Si espande fino a toccare le persone che ami. Si espande fino a toccare il cuore delle persone che ami. Proprio così. E ogni passo che faccio, questa luce è dentro di me. Ora immagina davanti a te una luce blu elettrica. E lascia che la fiamma possa sciogliere le energie negative che si trasformano in luce. Questa fiamma ti protegge, alimenta la tua passione. E questa fiamma ti permette di mandare via tutte le energie negative. Continua così fino a quando sentirai il tuo campo energetico luminoso. Fino a quando il tuo campo energetico inizia a trasformare dentro di te quella sensazione, quella percezione di sentirti in armonia. Immagina che questa fiamma possa bruciare l'aurea intorno a te. Quell'aurea che è stata incontaminata da pensieri negativi, da persone che hanno influenzato il tuo cammino, da idee divergenti, ma tu, qui, vuoi sentirti libera, libero. E quando sei pronto e pronta, porta dentro di te questa fiamma. Inizierai a sentire che ci sarà qualcos'altro da bruciare, bruciare dentro di te, pensieri, parole, cose che sono inutili. E quando lo fai, e lo fai con una certa intenzione, sentirai dentro di te un'armonia, un bilanciamento tra la tua energia e questa fiamma che arde. Questa fiamma che ti può aiutare a sciogliere lentamente tutte quelle energie che rimangono appese inutilmente. Questa è la tua fiamma, la fiamma di amore, la fiamma di passione. Continua a fare questo esercizio fino a quando sentirai dentro di te una calma interiore. La tua aurea si purifica e il tuo campo magnetico inizia a risplendere della propria energia, proprio così. Ora, porta la fiamma blu nella tua vita, nei tuoi pensieri e lascia che questa fiamma blu possa accompagnarti, possa guidarti nei prossimi giorni. Molto bene. Ora, porta l'attenzione al di fuori del tuo corpo e possa immaginare tutte quelle persone che si sono collegate in qualche modo nella tua vita, che hanno infranto i tuoi sogni, che hanno rallentato il tuo cammino, che hanno bloccato, ostacolato le tue idee o delle persone o delle persone che pensi che in questo cammino chiamato vita ci sia ancora un collegamento, un collegamento di energia, di pensieri, di vibrazione. E ora immagina che ci siano dei fasci di luce che si collegano a questa persona o più persone. e sai che attraverso questi fasci di luce puoi alimentare ancora oggi la tua energia, ma qui è un buon momento per recidere questi fasci di luce e possono ritornare nell'energia della persona di fronte a te, nell'energia delle persone che hai incontrato. È come se ci fosse una figura angelica che attraverso una spada possa recidere completamente questi fasci di luce che possa tagliare completamente ogni singolo fascio di luce. Lo recide e quell'energia rientra all'interno della persona e tu riprendi il tuo potere. Riprendi il tuo potere personale ringraziando questo istante. Inizia a comprendere dentro di te un cambio di frequenza, un cambio di emozione e lascia tornare dentro di te quel campo legato alla tua verità, legato alla tua unicità, legato alla tua identità e porta fuori di te quelle energie inutili che possono essere di aiuto e di supporto ad altre persone o con quelle persone che hai incontrato nella tua vita e le fai tornare, ritornare in quel mondo, nel loro mondo. Bene, molto bene. lascia che la fiamma blu lentamente si spenga fino a quando sarai circondato, circondata completamente da questa luce blu e la puoi tenere dentro di te sapendo che resta lì completamente con te perché questa luce blu avrà un effetto calmante su di te anche nei prossimi giorni, avrà un vantaggio quello di proteggerti e di eliminare le energie negative trasmutando la luce e anche quando entrerai nel campo energetico questa luce ti accompagna ogni volta che lavori sulla tua energia ti accompagnerà nei prossimi giorni, dentro di te e intorno a te inizia a sentire un beneficio fin da subito. Bene, molto bene. Ora con calma fai un bel respiro profondo e al mio tre torna qui uno fai un altro respiro inizia a sentire il contatto col tuo corpo due e proprio adesso tre puoi aprire i tuoi occhi puoi iscriverti a questo canale il canale ufficiale e condividere questa meditazione alle persone che ami ti auguro tutto il meglio a questo canale e Grazie a tutti. Grazie a tutti.